Buongiorno, oggi è il 25 maggio 2012, venerdì, siamo in bici, vi porteremo a visitare i scavi archeologici di Attilia di Sepino, stiamo percorrendo la vecchia statale che porta al nuovo ospedale Cartarelli, siamo in salita, percorso di sovandate, circa 25 km, percorreremo il percorso della Tampino Artiglia, gara turistica, che si corre annualmente qui in Molise, man mano faremo qualche aggiornamento, adesso siamo in direzione dell'ospedale Cartarelli, a dopo Grazie a tutti 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 poche centinaia di me eccoci arrivati abbiamo percorso 29 chilometri precisi 4 chilometri preventivati